Ciao ragazze, oggi nuovo video abon e nuovamente con il raffreddore della tosse Perdonatemi, sto porreddo, no vabbè Allora, spacchettamento di campagna 15 E mi sono qualificata platino, yeee Sono contenta, sono contenta, grazie, 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 grazie Svrattutto a tutti i miei clienti, grazie, grazie, grazie Allora, erano due pacchine, unito in uno solo, si è toccato come fatture, cataloghi, bla 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 Comunque, la felpa, double fess, bleu perdata dentro nera, taglia 42-44 Poi, due set avant-carre di Natale, al burro di cacao Molto carini, molto carini Un set Avonistint, il profumo è dentro, c'è una sciarpa lubardata Come va il leopardo, mamma mia Un burro cacao dell'Avoncarre di Natale Una crema Angel Boom della Solution da giorno, protezione 20 Un set di spalline decorative per il reggiseno Un set natalizio della Spa Della Planet Spa Un set per raccogliere i capelli Due Non so come funziona per fare lo chignon Credo, no, che cos'è questo? Ah, questo dovrebbe essere il Woody Che me lo sono preso io, se non sbaglio Dopo vediamo Vediamo pure se funziona e come funziona Allora, due mascara Big Darling Che adoro Sono favole serrime Una mattita Glimmer City Diamond Dovrebbe essere la Black Eyes, se non erro Sì L'Indurent dovrebbe essere due, se non erro Ho un mese a pure tre Comunque, Indurent al diamante Che sono fantastici Il trattamento, quindi non è uno smalto Una busta natalizia Pseudo lo guardata Pseudo no Col fiorino lino rosa Campioncini Cos'ha? T'ho quasi pensato a notire Oh mio Dio No, pare che l'ho abortito per ora Una borsa nera Non mi ricordo il nome Comunque con le barche a tracolla Bella grande Desimilpelle La tosse Eh? Come mi piace la tosse? Questo non mi ricordo cosa sia Bodylush? Ah, un vestito? Eh, sì Non me lo ricordo Sinceramente Eh, la toveglia di Natale Che è veramente, veramente bella Eh, poi abbiamo Pur Blanca al profumo La crema Eh, la vaniglia No Burro di Caretè La Naturals Madonna, sto pista come vigna Non c'è sacca di niente Eh, un tonico della Naturals La calendula, non mi ricordo Il burro corpo Eh, sì Il souffle body Eh, al cioccolato della Planespan E mazzante è bello grosso, so La 200 ml Mi sembra più grande Sarà l'aria del souffle Ancora adesso Sì, sì Io vorrei vedere oggi Poso domani Matita Super Shock La doppia, sì Questo dovrebbe essere Sì Cioccolato, sì Poi vediamo Un profumo Simply Him Da uomo Ideal Flow Il souffle Niente al colore avori Eh, che cos'è Che cos'è Ah, l'acqua profumata Della Pur Blanca I, che carino Il profumo solido Della Far Away Che è veramente minuscolo Infatti, quanti grammi so Non lo scopriremo mai Non ci sarà scritto Vabbè, comunque È misero Dopo ve lo faccio vedere No, così Il suo profumo solido Della Far Away Lo Shell Ah, il fondotinta minerale Della Calming Effect In polvere Il profumo Sì Quantum Sempre da uomo Che cos'è Che cos'è Ah, questo lo apriamo Non so cosa sia Questo lo apriamo pure sempre dopo Questa cosa Non capisco come sia possibile Ma è successa Si sono attaccati Ok Allora Dovrebbero essere Degli aligner Dell'Extra Lasting Uno E sempre due Ce n'ho Due neri e due marroni Profumo Rubina Un'altra rubina Un'altra rubina Che avremo dopo Che cos'è Che cos'è Una color trend Uno smalto Quello beige Quelle ultime colorazioni L'Extra Lasting Anche questo Mamma mia Tra il buio Annuncia Una staffa Avvenita sola E che cos'è Ah Lo smalto effetto gel L'ho preso Ice White Speriamo che sia bianco Devo facci vedere Facci vedere pure Lo smaltino Un'altra roba mia E campioncini vari E niente Quindi avremo queste cosine Ci vediamo tra poco Ecco Allora Intanto vi ho aperto Gli smalti Questo è Beggiolino Molto molto carino Molto molto È un beige nude Speriamo che sia Bello da stendere E ho preso La sola con questo Iceberg White Un bianco puro Bianco come il tappo Di questo Invece diciamo Che è un bianco sporco Sì è un bianco Sporco Vabbè È un colore particolare Vedremo E questo è il Woody Allora Ci vanno dentro Tre pile AA Cioè Queste qui Io ne avevo due Ne ho fregato una Adesso la tastiera Quindi poi lo spegnerò Vabbè Si accende Si mette la musica Ed è fantastico Fa anche rumori inconsueti Comunque Una figata Una figata Guardate Non riesco anche a spegnere Sì ok Niente Ora vi apro Queste cosine qui Ok Allora Le altre due scatole Sono uguali Ma ci sono lettere diverse Il famoso bracciale Pendente Molto Molto carino Uguale In foto Non rende Maledetti Questa Già l'avete vista Ma la cliente L'ha voluta Perché ha vista Nel video Questo fa parte Del set Natalizio Insieme al profumo Morare Gold E questo è un set Di una collanina Con più pendenti Molto molto carino E niente Io Il mio pacco Tutta la cagnara Il mio raffredore La mia tosse Vi salutiamo E ci vediamo Al prossimo video Ciao